E di una vittoria e due sconfitte il bilancio dell'ultima domenica sportiva per le squadre licatesi. Nel calcio luci e ombre, benissimo il Licata che serve il poker e travolge la polisportiva Palma. Aldino Liotta matura un 4-0 che rilancia le ambizioni di vertice del Licata. Di Puccio, Grillo, Montesanto e Scalisi le reti del successo licatese. Licata che si conferma in un ottimo momento, mette in fila il nono risultato utile consecutivo, chiude ancora una volta con la porta inviolata e riscatta alla grande il mezzo passo falso di Aragona di sette giorni fa. La ripresa degli allenamenti in vista della dura trasferta di domenica prossima sul campo del Castel Termini è fissata per domani pomeriggio, quando andranno valutate le condizioni dell'Ander Mantia, anche ieri out per infortunio. Seconda sconfitta esterna consecutiva per l'Atletico Licata nel campionato di terza categoria. Gli uomini di mister Gaetano Profumo cedono alla Campobello di Licata. Finora per l'Atletico percorso netto positivo in casa con due vittorie, ma di contro percorso netto in negativo lontano dalle mura amiche del Dino Liotta. Nella pallacanestro ha vincente derby al palafragapane tra la studentesca Licata e la Virtus Canicattì. Alla fine la spuntano gli ospiti di Coaccio e Beto Manzo con il punteggio finale di 68-75, grazie al quale continuano la loro corsa nelle zone alte della graduatoria. Ma la studentesca Vivere e Viaggiare, ebbene precisarlo, non ha demeritato rimanendo in partita fino alle battute finali. Per gli uomini di Coaccio e Recastorina si tratta della seconda battuta d'arresto consecutiva, ma al cospetto delle prime due della classe.